Un torneo di calcio a 5 in piena regola si è svolto oggi presso il centro sportivo di via Maso della Pieve del Capoluogo in cui hanno preso parte diversi rappresentanti delle istituzioni della città di Bolzano assieme ai membri delle associazioni comunali e provinciali impegnati nell'immigrazione. Il tutto promosso dalla consulta immigrati del comune per celebrare i dieci anni di attività. Un evento sportivo mirato a sensibilizzare la popolazione in termini di integrazione sociale di problematiche culturali di convivenza. Questo primo torneo delle integrazione si chiama siamo tutti nelle stesse squadre perché attraverso lo sport che è l'anima delle persone e che unisce alle diverse persone abbiamo voluto organizzare quello perché consideriamo che è un bel momento di incontro e vogliamo favorire la partecipazione non soltanto delle persone stranieri sino insieme alle diverse istituzioni, al comune, alle diverse associazioni. Abbiamo voluto quello e effettivamente stiamo vedendo che questa partecipazione è stata data. Abbiamo anche voluto promuovere la partecipazione della seconda generazione. Ci sono squadre di ragazzi della seconda generazione e anche dei bambini. Ci sono due squadre dei piccoli bambini che sono anche il futuro di questa convivenza, di questa integrazione che vogliamo promuovere.